È andata benissimo, io la consiglio sicuramente perché mi ha levato tanto il dolore, quindi è andata bene, è durato un'ora da quando sono entrata in acqua, però è andato molto bene. A meno di 24 ore dalla riapertura della vasca nativa all'ospedale del Valtarno c'è già stato un parto in acqua, quello che è dato alla luce la piccola Vittoria. Le mamme che vorranno infatti potranno tornare a dare la luce ai propri bambini in acqua anche al Santa Maria alla Gruccia, la vasca allestita nel reperto di ostetricia e ginecologia rimasta chiusa dall'ugio 2022 è tornata in funzione nel giorno di San Valentino. Per noi è un fioralocchiello perché in effetti molte mamme decidono di partorire oppure di fare il travaglio proprio nella vasca in acqua e l'anno scorso abbiamo avuto 493 parti, quindi siamo sotto la soglia prevista di 500, però senz'altro una parte in parte è dovuto al fatto che non era disponibile la vasca e anche al percorso Covid che siamo riusciti ad attivarlo solo alla fine dell'anno per cui circa, per quanto riguarda il percorso Covid circa una ventina di donne sono state indirizzate all'ospedale San Donato di Arezzo proprio perché Covid positive. È chiaro che se capitava una partoriente che doveva partorire era Covid, partoriva ugualmente anche qui nell'ospedale, però se si sapeva prima è chiaro che si mandava verso l'ospedale San Donato di Arezzo che era per le pazienti Covid positive. Quindi speriamo senz'altro quest'anno di incrementare questo numero e di superare la soglia dei 500 come già era avvenuto in epoca precedente. Grazie. Grazie.